Arrivo un giorno a tutti e tutte. Due gradi stamattina. Anche Ivan, Michele, Usvaldo, Andrea, Federico, Matthew e la sempre davanti, la da solo e sempre la Francesco. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Dai. – Dai, mi hijai. – Dai. Ok 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 Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.